E dopo aver visto in anteprima alcune delle novità della prossima espansione di HeroQuest, l'ascesa della luna del terrore, usciamo dalle mura del castello e scopriamo altri padiglioni di Play, a cominciare dai nostri amici di Asmodee, con i quali inizieremo un viaggio che ci porterà in fondo al mar! Qualcosa in lui si trasformò, era sgarbato un po' volgare e ora no! Eccoci qui! Grazie Jolie, bellissima, mi piace tantissimo questa canzone ed era proprio la carta che Jolie ci ha svelato in anteprima per Dixit Disney, ovvero La Bella e la Bestia. Io ragazzi sono veramente in super hype per l'uscita di Dixit Disney, non vedo veramente l'ora e vi dico la verità, io sognerei un po' di carte su dei villains, tu invece qualche carta che speri che esca perché non sappiamo proprio, non sappiamo niente! No, infatti neanche io eh! Allora, sui villains assolutamente Ursula perché l'adoro, una villain cattiva, cioè mi piace tantissimo, una cattiva fantastica e poi vabbè... la sirenetta, cioè lei ce l'ha nel cuore tantissimo! Vedrei anch'io la gente che al sole sempre sta con me vorrei essere lì senza un perché!